Festeggiata la solennità di Cristo, re dell'universo, svoltasi nell'omonima parrocchia guidata da Doliborio Fransu. Messe e processione eucaristica serale attraverso alcune vie del quartiere hanno caratterizzato la giornata liturgica, mentre la vigilia per il canto dei Vespri Solenni ha registrato la presenza del rettore del seminario Donaldo Amico con i suoi seminaristi che hanno presenziato ed animato i riti liturgici. Da sottolineare che da quest'anno, legata alla ricorrenza, è stata prevista, ad iniziativa del signor Francesco Gencorrusso, la consegna, dopo le funzioni religiose, di una borsa di studio destinata ad alunni meritevoli che si sono contraddistinti per impegno didattico e comportamento encomiabile. Quest'anno i premiati sono stati gli alunni Elia e Mattia, dell'Istituto Scolastico Superiore Gioban Battista Odierna di Mussomeli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A un mio figlio, il Signore del Universo, il nostro misterioso, il nostro corso di Dio. Io ti amo, il male, e tu ci hai, al formato in me, Signore. Benedetto nei secoli, Signore, i figli di canto schienze della vita. Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. Benedetto nei secoli, il Signore del Universo, il generale di canto schienze della vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.